Lo sport in collaborazione con Pegaso annuncia 40 giorni di offerte finalmente tutta la qualità dei mobili artigianali veneti con sconti oltre il 30% Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita Zinedine Zidane è tornato a Torino per inaugurare il nuovo centro sportivo denominato Z5, quattro campi di calcio a 5 in un'area coperta di 10.000 metri quadrati a Mappano, frazione di Borgaro, una struttura all'avanguardia a due passi dal capologo piemontese che nasce con l'obiettivo di riuscire ad accogliere gli appassionati di calcio a 5 e di mezza città La presentazione ufficiale è avvenuta nell'area Borsetto, acronimo di Borgaro, Settimo e Torino con la presenza del fresco vincitore della Champions League sulla panchina del Real Madrid a Torniato e da alcuni suoi ex compagni alla Juventus e proprio verso i colori bianconeri Zisù ha lanciato un messaggio d'amore Io avevo detto 5 anni fa, mi sa, quando ho cominciato a fare l'allenatore ho detto che un giorno mi piacerebbe fare l'allenatore della Nazionale Francese quindi ti dico la stessa cosa, un giorno mi piacerebbe fare l'allenatore della Nazionale Francese però non è il momento, c'è un allenatore, adesso che sono qua a Madrid come hai detto ho vinto il giocatore, ho vinto il secondo con Carlo Ancelotti e ho avuto la fortuna di vincere come primo allenatore e poi la Juve, sì c'è qualcosa di particolare con la Juve ho detto a un giornalista italiano che avevo visto due settimane fa perché mi faceva la stessa domanda e gli ho detto non si sa mai la Juve siccome è stato importante per me non si sa mai un giorno posso venire a Torino e così mio amico sarà contento un consiglio utile per la Juventus per avvicinarsi così in fretta ad un traguardo importante e ambito voglio sempre bene alla Juve io credo che lo sta facendo bene e che gli anni che vanno a passare adesso con la squadra che hanno possono fare qualcosa, sicuro sicuro Pegaso a Bosco Marengo sulla strada statale Novi e Alessandria possibilità di finanziamenti all'interno del punto vendita Il Meteo in collaborazione con Immaginate di essere in una piscina con spiaggia ed essere massaggiati e rinfrescati da un'effusione di bollicine d'aria Immaginate una piscina naturale con acqua cristallina che impreziosisce il vostro giardino in tutte le stagioni Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo Piscine simili a laghi di montagna o a spiagge esotiche senza cemento armato senza concessioni edilizie e con le detrazioni del 50% Punto Fuoco le realizza tramite un processo costruttivo brevettato in 20 giorni Vuoi saperne di più? 0131 89 44 03 Play 2 History 4 Villa Gabrielli Sabato 10 settembre presso il palazzetto dello sport di Ovada strada Grillano alle ore 21 grande evento di musica internazionale con personaggi storici degli anni 70 come John Eckett, David Jackson Il ricavato della vendita dei biglietti andrà a finanziare il progetto Coltiviamo il benessere in Villa Gabrielli che mira a rendere fruibile il giardino ortoterapeutico per migliorare la salute ed il benessere dei pazienti affetti da malattie croniche coordinato dalle associazioni Vela, Adia, Aism con il supporto tecnico della Fondazione Cigno Vi aspettiamo il 10 settembre ad Ovada Per richieste e informazioni fondazionecigno onlus chiocciolagmail.com www.parcovillagabrieliovada.it Telefono 334 62 89 157 www.parcovillagabriel.it